E vissero felici e contenti esiste solo nelle favole. Nonostante ciò, un orsacchiotto parlante sta per sposare la sua fidanzata. Vi dichiaro orsacchiotto e moglie. Puoi baciare l'orso? Ma tanto la gente ormai non si scandalizza più per niente. Ho una notizia bomba. Io e Tammy Lynn avremo un bambino. Fichissimo, aspetta, e come fate? C'ho ancora un donatore di sperma. Che c'è? Che fai? Mi avvantaggio. Come ti avvantaggi? Che fai? Che fai con quella mano? Lo faccio per te, così quando entro è subito pronto. Pensi che siamo in un fast food? Ehi, Johnny, ce l'hai fatta. Ecco qua, pieno. Tieni. Che... erano i figli di qualcuno. Porca... Negli occhi, ce l'ho tutta negli occhi. Aspetta, aspetta, scatto una foto e la posto su Facebook. Cosa? Hashtag... Lunedì. Aiutami! Oh mio Dio, Teddy, guarda qui. Dice che se vogliamo avere un bambino, devi dimostrare di essere un essere umano in tribunale. Una bella fregatura. Combatteremo, troveremo un avvocato e faremo causa al governo per i tuoi diritti. Best of power! Sono Samantha Jackson, tu sei Ted? Ah, sì, Sam Jackson. Il tuo secondo nome? Leslie. Oh mio Dio, allora tu sei Sam L. Jackson? Fantastico, sì, proprio come Sam L. Jackson. Chi è? Hai mai visto un film qualunque? Lui è quello nero. Best of power! Ti hanno negato gli stessi diritti degli altri, solo perché sei diverso. Vuol farmi riavere la mia vita? Ted, come dimostreresti di avere dei sentimenti? Ho un gonfiore in mezzo alle gambe. Obiezione. Respinta. Vuoi essere una persona agli occhi della legge? La cosa importante delle persone è che diano un loro contributo alla società. Allora, il mio caffè mica dovete costruire un missile. Invece, posso lanciargli un biscotto in mezzo alla fessura delle chiappe? Fallo. Sì che lo faccio. Che mira! Chi è stato? Signore, le chiedo scusa per mio figlio. Ha cinque anni. Cattivo. Ho seduto e finisci le crocchette di pesce. Crocchette! Via, via, via! Vorrei farti qualche domanda di prova. Avanti, fatti sotto. Ti consideri un essere umano? Obiezione. Accolta. Non puoi obiettare. Respinta. Sospensione. Colpevole. Specula. Contenzioso. Caceliere. Protocollo. Deroga. Nel mio ufficio. Influenza e test. Ho concluso. Potremmo fare gli avvocati. Beh. Salute. Morri. Anfix. particles. Usi. помoskeln. Cheianti. Ma. Ma. Grazie.